Questa vita non sarà mai come vuoi tu, quindi ridici sopra e non pensarci più. Uno striscione con questa frase e due foto del giovane nei suoi momenti di spensieratezza ha aperto il lungo corteo degli amici, parenti e delle tantissime persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Biagio Pace, il 24enne morto a Sora in un incidente stradale. Troppo piccola la chiesa della frazione di San Pietro a Militello Rosmarino per contenere le tantissime persone che hanno presenziato ai funerali. In prima fila tantissimi giovani che da martedì sera hanno presidiato l'abitazione del loro amico per dare conforto ai familiari e farsi coraggio davanti al lutto che ha colpito tutta la comunità montana. L'incidente mortale è avvenuto a Sora nella provincia di Frosinone. Qui si trovava il giovane perché avrebbe voluto fare l'infermiere e conseguire il diploma di laurea in scienze infermieristiche, ma il destino ha infranto i suoi sogni e i suoi progetti. Biagio Pace è morto nel corso dell'impatto violentissimo tra una Mercedes ed una Kia scontratasi nei pressi di Via Foscolo. Quando sono arrivati i soccorsi il giovane era ancora vivo, anche se le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Quindi la corsa verso l'ospedale è arrivato in fin di vita e il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti dopo. Grazie. Grazie. Grazie.